Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. Dopo tre giorni, i genitori trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava ed interrogava, e tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse, Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose, perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro, tornò a Nazareth, e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Glorie a Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ricordiamo i cento anni dell'apparizione della Madonna. E' apparsa il 13 maggio del 1917. A tre pastorelli, tre bambini, stavano per rientrare con loro gregge, quando su un leccio si è posata una bellissima signora, tutta luminosa. I bambini si spaventano facilmente, e subito la Madonna li ha rassicurati. Non abbiate paura, non voglio farvi alcun male. E Lucia, subito, quella che aveva la lingua più sciolta, cosa volete da me? Ha chiesto. E lei ha risposto, sono venuta a chiedervi di venire qui per sei mesi consecutivi, il giorno 13. Ecco, penso che come ai tre pastorelli, anche noi, la Madonna ci chiede questo. Nel senso, forse più generale, di essere fedeli all'amore per lei. Noi dobbiamo promettere questa fedeltà di amore filiale alla Madonna. A questi appuntamenti che lei ci dà, sono gli appuntamenti che possiamo vedere e sentire, a percepire in tanti santuari, di cui è piena la nostra Italia e il mondo intero, dobbiamo anche sentire la sua presenza nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, dove c'è una sua statua, una sua immagine. E sentiamo quindi che lei ci chiede di venire, di venire, venire qui, venire a lei, venire insomma a sentire il suo amore e a pregarla con amore. Ecco dunque a Fatima, la Madonna si è presentata, si è preannunciata con due lampi, così dice Lucia, tanto che loro hanno pensato che si avvicinava il temporale, ecco perché stavano radunando le pecore per tornare a casa in fretta. E poi la Madonna ha detto che è scesa di essere del cielo. Di dove siete? Ha chiesto Lucia. Sono del cielo. Ecco dunque il cielo è la nostra origine, la nostra natura, l'anima nostra viene dal cielo e deve tornare al cielo. E San Paolo diceva, pensate alle cose del cielo, non a quelle della terra. Dobbiamo pensare al Signore Gesù risorto, alla Madonna assunta, alla Madonna apparsa. E qui il cielo, nella antichità, è sempre stato visto come il luogo dove si scaricavano i fulmini di Dio, ricordiamo i fulmini di Zeus, di Giove nel Paganesimo, ma anche le manifestazioni molto forti dell'Antico Testamento. A Fatima invece il cielo non ha mandato fulmini, a preannunciare la Madonna, ma dei lampi, due lampi. Il lampo è innocuo, il lampo è bello, è gioioso, guizza dall'Oriente all'Occidente, è come un'indicazione di una strada, la via per arrivare al cielo. Ecco il lampo. Infatti tutto il primo dialogo tra Lucia e la Madonna è sul tema del cielo, sull'andare in cielo, il luogo beato e bello della Madonna. E la Lucia dice, andrò anch'io in cielo? Ha detto, viene dal cielo. Sì, ci andrai, ha risposto la Madonna. E Giacinta, anche lei. E Francesco, anche lui. Ma dovrà recitare molti rosari. Ecco, in Giacinta noi vediamo il cielo come meta dono della Madonna, per i meriti della sua sofferenza. In Francesco noi vediamo il cielo come meta raggiunta con l'impegno, l'impegno soprattutto della recita del Santo Rosario. Il Rosario è una corda che ci tira su in cielo, è la corda che ci salva, che ci porta in cielo, è la corda anche che tira giù dal cielo, tira giù tante grazie e tante benedizioni della Madonna. Ricordiamo questo esempio. E siccome oggi questi bambini sono stati canonizzati per un miracolo che hanno compiuto, allora guardiamo meglio all'or esempio di santità che vogliamo proprio imitare. Non sono solo più beati, sono santi, quindi venerati e imitati in tutta la Chiesa. E Giacinta ci indica soprattutto il sacrificio, quello che è la sofferenza offerta, come mezzo per acquistare tanti meriti e tante ricompense, tanti punti per il cielo, potremmo dire. Ecco allora, io penso che oggi si fa un po' fatica, soprattutto nella nostra gioventù, a cogliere il valore del sacrificio. La gente, la gioventù, non vuole più sacrifici, non vuole fare servizio, non vuole fare fatica, non vuole rinunciare a niente, non vuole impegnarsi in un lavoro di volontariato per il Signore o per gli altri. C'è questo atteggiamento un po' contrario a questo spirito di sacrificio, di generosità, di donazione, di servizio. E noi invece dobbiamo essere convinti che questi sacrifici hanno dei grandi meriti e anche delle grandi grazie. Per esempio la Madonna parlava di far sacrifici per riparare i peccati, per la conversione dei peccatori. E la Giacinta è rimasta soprattutto colpita da questo insegnamento della Madonna e metteva tanti sacrifici, i cosiddetti fioretti, nella sua giornata. Ecco, anche noi dovremmo tornare a questa bella pratica dei fioretti nel mese di maggio almeno, che è un dono di sacrificio, una rinuncia, qualcosa che ci fa piacere, qualcosa che ci può essere bello. Penso, per esempio, questi bambini rinunciavano alla merenda, rinunciavano a bere qualche cosa, rinunciavano a una festa, rinunciavano magari a qualche denaro, qualche monetina. E poi le penitenze, ne volevano loro questi sacrifici, fino addirittura a mettersi una cordicella di nodi attorno ai fianchi. Poi la Madonna gli ha detto di toglierli durante la notte, perché potessero almeno riposare e dormire bene. Però ho apprezzato questo piccolo gesto di penitenza e di sacrificio, il dovere fatto tutti i giorni, con sacrificio, offerto al Signore. Il dovere porto tanti sacrifici, perché è sempre un dovere di amore verso il nostro prossimo. E poi ci sono le penne quotidiane, ci sono qualche dispiacere, qualche problema, qualche malattia, qualche fatica, qualche impegno. Ecco, non dobbiamo sciupare queste grandi ricchezze spirituali, come ce le insegna la Madonna, come ha imparato soprattutto Giacinta. Dobbiamo offrire queste cose, soprattutto dando anche l'intenzione, come chiedeva la Madonna, di riparazione, di conversione dei peccatori, ma anche per avere le grazie per tutti i nostri bisogni. E' una lezione di santità che soprattutto viene a noi da questa piccola, la più piccola dei tre, la Giacinta. E poi abbiamo anche Francesco. Francesco ci indica la preghiera come una moneta forte per comprare, per ottenere le grazie del Signore. E la prima grazia è quella di andare in cielo, dovrà dire tanti rosari. E Francesco ha preso sul serio questa indicazione della Madonna. Ecco, anche qui dobbiamo riconoscere che siamo un po' lontani da questo spirito di preghiera, di tanta preghiera. Ecco, e soprattutto i nostri ragazzi, i nostri giovani, si dice che non si ha più tempo per la preghiera. Per tante altre cose, tanto tempo, ma per la preghiera, per il rosario, uno non ha tempo. E anche un po' i bambini, a volte riempiamo il loro tempo di tante attività, sport, hobby, corsi, impegni, e per la preghiera non c'è più tempo. Neanche più ci si ricorda. Resta l'ultimo, e quando poi si è troppo stanchi e indisposti, la preghiera viene accantonata. Ecco, vediamo che poi cresce l'indifferenza, l'apatia religiosa, la pigrizia, l'indisponibilità, quasi un'allergia alla vita spirituale, alla preghiera, anche nei nostri bambini, nei nostri piccoli. Ecco, io penso che Francesco davvero ci può insegnare a dire tanta preghiera, a fare tanta preghiera. Ecco, diceva, lui quando ha saputo, perché non sentiva la voce della Madonna, Francesco, quando però gli altri gli hanno detto che sarebbe andato in cielo, ma che avrebbe dovuto dire tanti rosari, lui ha risposto, oh Madonna mia, rosari ne dico quanti ne volete. e poi ha preso proprio l'abitudine di allontanarsi in disparte e diceva il rosario, aveva in mano la sua corona e quando lo chiamavano per giocare, alzava la mano e faceva vedere il rosario. Ecco, il dopo, dopo. E poi quel dopo lì non arrivava mai, perché lui continuava a dire il rosario. Ecco, bene ho chiesto che la Madonna, davvero che la Madonna del rosario, ci fa vedere questo piccolo Francesco nella sua santità di preghiera del rosario. E allora vediamo proprio di imitarlo, ormai è un piccolo santo che non possiamo dimenticare, trascurare, perché c'è l'offerta la Madonna. Sono due piccoli santi che hanno avuto come maestra la Madonna stessa. E allora deve essere la Madonna anche la nostra maestra per insegnarci a offrire i sacrifici e a recitare tanti rosari. Impariamo da questi bambini queste virtù che sono importanti per la conservazione della nostra vita cristiana e anche e soprattutto per la formazione della vita cristiana nei nostri piccoli. E diciamo, a Giacinta e Francesco, benedite i nostri bambini, ma soprattutto benedite le nostre famiglie dove i bambini possono crescere veramente come dei buoni cristiani, con questo spirito di sacrificio e con questo spirito di preghiera di questi due piccoli, Giacinta e Francesco. Grazie.